Allora, anzitutto possiamo affermare che nessuna preghiera fatta in Gesù si può dire solo preghiera individuale. L'ha detto benissimo Mervet stamattina, se vi ricordate. Questo ovviamente perché la preghiera fatta da un cristiano è ecclesiale, per il via del battesimo, perché nel battesimo noi siamo innestati in Gesù, che realizza la comunione dei Santi. E quindi noi sempre preghiamo nella comunione con la Chiesa intera, a nome dell'intera umanità anche. Tempo fa, piccola esperienza personale perché mi ha aiutato molto a preparare queste poche cose, insomma, ma mi sono ricordato che tempo fa pregando un salmo che esprimeva tanta angoscia, dolore, e sentivo che era la preghiera più adatta, anche se in quel momento non vivevo quei sentimenti, perché pensavo a quello che tanti stavano vivendo, per esempio in Ucraina o in tante situazioni simili. Quindi era come espressione mia di una preghiera che loro stavano facendo con la vita. Io ho trovato Sant'Agostino che scrive E' Cristo, il Cristo, il Cristo totale che parla nei salmi. Dobbiamo sentire, nota e familiare come fosse la nostra, la sua voce in ogni salmo, sia che canti o che gema, o che si rallegri nella speranza o che sospiri per la realtà. A maggior ragione, quando preghiamo insieme, non dovremmo prima di tutto sottolineare la dimensione personale, sia interiormente che nell'atteggiamento esteriore, ma sottolineare l'aspetto comunitario. Lo stare in mezzo agli altri, pregare alla presenza di Dio presente negli altri, che significa anche presente tra noi. Questo mi ha sempre aiutato, perché avevo sentito quando ero giovane, che si potesse, Chiara diceva, pregare il rosario alla presenza di Dio del tuo compagno che ti sta accanto. Questo testo lo sentiremo dopo. Allora, a tale proposito, ecco qualche esperienza di Santi. San Francesco e i primi compagni si trovavano in un, loro lo chiamano il Tugurio, arrivo torto. Ci ricordiamo che col consiglio siamo stati. Erano continuamente intenti a pregare Dio, ma non avendo ancora libri da chiesa, contemplano insieme il crocifisso guardando ad una croce di legno che si erano costruiti. Qui c'è una bella stampa su questa esperienza. San Buonaventura, che scrive la storia, dice Al posto di quei libri, fissandovi ininterrottamente lo sguardo, sfogliavano e risfogliavano il libro della croce di Cristo, giorno e notte, istruiti dall'esempio e dalla parola del Padre, che continuamente faceva a loro il discorso della croce di Cristo. Non è interessante che San Benedetto ha detto brevissima la cosa comune, no? Qui invece giorno e notte. Per dire che ognuno ha la sua esperienza, no? Don Bosco narra di una forte esperienza di vita comunitaria vissuta da adolescente, quando lui era ragazzo, a Chieri, con i suoi compagni. Esperienza che rimarrà per lui come un punto di riferimento per tutta la sua vita. Tra i pilastri del loro stare assieme, in libertà, c'era la preghiera, che risulta anche incastonata in tante altre attività. Racconta nelle sue memorie dell'oratorio. Lungo la settimana, gli aggregati si raccoglievano in casa di uno dei soci per parlare di religione. È un modo di dire di allora, noi potremmo dire delle cose belle di Dio, insomma, no? A questa radunanza interveniva liberamente chi voleva. Ci trattenevamo alquanto in amena ricreazione, giocando. In pie conferenze, letture religiose, in preghiera. Nel darci buoni consigli e nel notarci quei difetti personali che taluno avesse osservato o ne avesse da altri udito e a parlare. Facevano allora della verità anche loro. Sottolineare l'aspetto comunitario, lo stare in mezzo agli altri con tutto se stessi, pregare alla presenza di Dio presente negli altri, è il senso della preghiera in comune per eccellenza, che è la preghiera liturgica. I cristiani, dice Papa Francesco, trovano in essa quella mediazione oggettiva richiesta dal fatto che Gesù Cristo non è un'idea o un sentimento, ma una persona vivente e il suo mistero un evento storico. Questo lo dice in un'udienza generale nel febbraio del 2021. Lo stesso Papa Francesco di recente ha scritto una lettera apostolica, la Desiderio Desideravi, che è un po' passata così, perché è stata scritta il 29 giugno di quest'anno. Poi siamo andati in vacanza, tanti, quindi non ci siamo accorti. Io non mi ero accorto. In questa lettera, sulla formazione liturgica del popolo di Dio, afferma tante cose. Ci sono due testi in modo particolare che possono essere utili. Dice, la celebrazione liturgica ci libera dalla prigione di una autorreferenzialità nutrita dalla propria ragione o dal proprio sentire. L'azione celebrativa non appartiene al singolo, ma a Cristo Chiesa, alla totalità dei fedeli uniti in Cristo. La liturgia non dice io, ma noi. E ogni limitazione all'ampiezza di questo noi è sempre demoniaca. Terribile. Continua. La liturgia non ci lascia soli nel cercare un'individuale presunta conoscenza del mistero di Dio, ma ci prende per mano, insieme, come assemblea, per condurci dentro il mistero che la parola e i segni sacramentali ci rivelano. E lo fa coerentemente con l'agire di Dio, seguendo la via dell'incarnazione, attraverso il linguaggio simbolico del corpo che si estende nelle cose, nello spazio e nel tempo. Da una conferenza telefonica con le comunità dei focolari nel mondo. Rocca di Papa, 11 febbraio 1988. Ciò che è essenziale nelle nostre preghiere. Noi al mattino, appena sveli, diciamo a Gesù, perché sei abbandonato. Esprimiamo conciò il proposito di sceglierlo come tale e di preferirlo lungo tutto il giorno. E ciò è essenziale per noi. Non si può vivere la nostra spiritualità senza questo impegno. Poi recitiamo altre preghiere. Ma la cosa più importante al mattino è fare a Gesù l'offerta della nostra giornata. Dando così ad ogni attività, ad ogni incontro, un motivo, un'intenzione sopranaturale. Ogni giorno abbiamo poi le preghiere della sera. Con esse, così come al mattino, si prega il Padre, Gesù, Maria, l'Angelo Custode. Ma la cosa più importante è l'esame di coscienza. Rivedere cioè la nostra giornata, ora dopo ora. E promettere sinceramente di far meglio il giorno dopo, perché chi non avanza regredisce. E ancora ogni giorno, molto spesso, assistiamo alla Santa Messa. Essa costituisce il vertice di ogni altra preghiera, l'atto più alto della nostra giornata. La vita di una creatura, infatti, ha significato vero se riconosce il suo creatore, se sta verso di lui in atteggiamento giusto, quindi se lo adora, lo ama, lo ringrazia, se a lui chiede perdono dei propri peccati, se lo invoca. Ma tutto ciò è pressoché impossibile farlo da soli, con mezzi nostri scelti da noi. Siamo incapaci di offrire a Dio qualcosa di adeguato, alcunché che arrivi a toccare il suo cuore. Dio è vicino, ma è anche immensamente grande. Occorre quindi qualcosa che sia a lui proporzionato. Non si dà ad un adulto un giocattolo, né a un neonato un libro. Ed ecco la Santa Messa che ci dona questa insperata possibilità. Sull'altare è offerto dal sacerdote al Padre, e noi possiamo unirci a lui nell'offerta, Gesù stesso. Egli è il nostro dono, quello che il Padre gradisce. Con lui e per lui possiamo degnamente e convenientemente amare il Padre, adorarlo, lodarlo, chiedergli qualcosa, ringraziarlo, implorare da lui il perdono dei nostri peccati. Con lui, con Gesù, il Padre ci ascolta. Di qui l'importanza della Santa Messa. Dobbiamo assistervi con questa coscienza. E dobbiamo non dimenticare di mettere sull'altare anche la nostra vita, assieme alla sua, con tutto quanto la riguarda, soprattutto le fatiche, le pene, le sofferenze, i tormenti, perché uniti a quelli di Gesù acquistino il massimo valore. Dal discorso ai focolarini sulla spiritualità collettiva. Castelgandolfo, 23 dicembre 1994. Spiritualità del noi. E proprio in questi giorni sto scoprendo veramente come la nostra è la spiritualità della Chiesa, perché la Chiesa ha la sua massima espressione nella Messa, è lì che è quello che deve essere. E nella Messa domina il noi, non il tu, non vai come singolo, vai come popolo. E quindi se domina il noi, se c'è unicamente il noi, vorrei dire, nella Messa, allora il noi è anche per la Chiesa fuori della Chiesa, per il popolo fuori della Chiesa. È la spiritualità collettiva del noi. La spiritualità del noi è quella che ci va a essere Chiesa fuori per essere dentro il noi quando c'è l'Eucaristia. Ecco, per cui noi sentiamo tanto la preghiera liturgica, perché è la preghiera del noi. È caratteristica, per esempio, nel nostro consensurint. Guai se noi non mettiamo insieme a pregare. E nel consensurint siamo due o più che preghiamo. Anche noi meditiamo, ma c'è un di più. Dopo aver meditato, vogliamo mettere al corrente i nostri fratelli nella comunione d'anima. Meditiamo sulla scrittura, sui scritti dei Santi, sui documenti della Chiesa che sono adatti alla meditazione o su brani riguardanti alla nostra spiritualità. Ma poi mettiamo in comune, c'è il di più. Per seguire la santità altrui come la propria. Si fanno anche giorni di ritiro e giorni di esercizi spirituali nel movimento, anche fra voi. Ecco, però nel programma si mettono ore di silenzio, diciamo, in cui ascoltiamo il predicatore e ore nelle quali invece comunichiamo fra di noi le nostre esperienze. Quindi c'è un di più come gli altri. Certo, ascoltare, è bene formarci molto bene dentro, ma poi anche comunicare. Dal discorso alle focolarine, su Gesù in mezzo. Rocca di Papa, 7 dicembre 1975 Il Consenzerint E qui passiamo al Consenzerint, che è importante. C'è una preghiera che da più di trent'anni, da quando cioè è nato il movimento, i membri di esso usano fare. Se si chiede loro in qualunque circostanza di pregare, per i vivi o per i morti, o per ottenere qualsiasi grazia, essi, già lo sappiamo, fanno il Consenzerint. Cioè chiedono, uniti nel nome di Gesù, all'Eterno Padre qualsiasi cosa. E il nome Consenzerint è preso dalla frase di Gesù. In verità, vi dico, ancora, se due di voi, sopra la terra, si accorderanno con Consenzerint, per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è in i Cieli ve la concederà. Perché? Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro. Non si trascurrono fra noi, certo, le altre preghiere che la Chiesa consiglia, ma questa, vorrei dire, è la nostra, caratteristica, insomma, che abbiamo aggiunto alle altre, che facciamo secondo i fedeli, eccetera. Con essa noi sappiamo di non essere noi a chiedere, ma Gesù che è presente nella nostra unità. E con questa preghiera le grazie più avute sul movimento, grazie spirituali e grazie materiali, sono senza numero, è stato sempre presente, inoltre, al movimento, come una luce di grande speranza, di respiro veramente evangelico, quel qualunque cosa. Dunque tutto, dalle piccole alle grandi cose, da quelle del corpo a quelle dello spirito, tutto si può chiedere in unità. E tutto si è chiesto in unità. Naturalmente si è sempre pensato, anche noi, che suddetta frase del Vangelo ottiene i suoi fini se la si vive con tutto il resto del Vangelo. Per questo, prima di fare un consensurint, ci si esamina rapidamente se siamo pronti a morire l'uno per l'altro, e non si attenua a questa prontezza dopo aver pregato. Il consensurint è per noi la preghiera di chi vive il Vangelo, del focolarino per esempio, non una formula magica per ottenere, per coloro che hanno bisogno di ottenere qualche cosa. Abbiamo osservato che il consensurint porta un grande vantaggio, impedisce la superbia. che è quasi inevitabile in noi poveri uomini quando otteniamo ciò che abbiamo chiesto. E ciò perché sappiamo che col consensurint, non solo è Gesù stesso in mezzo a noi che domanda, ma anche che non siamo stati soli nel domandare. Che Dio ci faccia sempre più degni di sia alta vocazione e ci colmi le mani di grazie da distribuire nel mondo arido e freddo, il quale non conosce che cosa significhi vivere in relazione con un padre che a tutti vorrebbe ridare la presenza del proprio figlio. E con lui molte e molte grazie. Grazie a tutti.